Io avrei dovuto prendere un bastone e rompere l'osso del collo a Bud De Spence e a Terence Hill, a tutti è dura, però io faccio presto, li dimentico e dal 92 con Bud De Spence è chiuso e con Terence Hill dopo l'88 che c'è avuto un periodo un po' disastroso mi hanno implicato in un'associazione a delinguere con la camorra napoletana che non c'entrava un cazzo, io ho prestato dei soldi tramite un mio amico si chiama Raffaele Gonzales, questi 40 milioni li hanno dati a questo Tilotta, a Guido Tilotta, ma io gli avevo detto a questo Raffaele Gonzales che era mio amico, tu dirai a questo tuo amico che i soldi mi devi restituire dopo due mesi, al 5% gli ho dati, certo non davo miei soldi, gli assegni che mi ha fatto, due assegni di 20 milioni cada uno li avevo fatti controllare, li avevo messi in banca ma non riscuotibili, e quando lui mi ha chiamato ha risposto mia madre e gli dice signora sono Guido, posso parlare a Riccardo, mia madre gli ha risposto, Riccardo in un quarto d'ora rientra, lo richiamo perché io non so chi Guido è lei, dopo un quarto d'ora lui ha chiamato e io gli ho risposto, e mi dice ciao Riccardo, ciao chi sei? Mi dice sono Guido, Guido chi? Sento ormai io gli ho detto ma Guido chi? Guido Tilotta, ah dico buonasera, ci senti io gli ho telefonato perché non riesco a trovare Gonzale, domani se vengo a Roma ti riporto quei 42 500, tutto quello che si dice di questo colpo di telefono, questo Vignola, questo infame di questo magistrato, giudice, che lui mi ha rovinato la mia esistenza, sa lui che mi ha rovinato? Quando gli stavo spiegando, da Regina Celi mi hanno portato a Napoli, carcere 90, alta, mi dice insomma signor Pizzuti mi dica bene la verità, su questi 42 500 sono 42 kg e mezzo di cocaina perché loro trattano che questa, e io un po' nervoso perché ero veramente agitato, già 15 giorni li avevo fatti a Roma, già dopo 15 giorni in là che questo mi convoca, io gli ho detto guardi che lei si sta sbagliando, io faccio l'attore al cinema, io faccio il casale, sono un acrobota, io non ho bisogno, questo signore mi devo ridare 42 milioni e mezzo di lire che io gli ho presterato, ah lei conferma la stessa versione del Tilotta, ah vedete bene che io questo di Rotta neanche lo conosco, lo conoscevo, ma Roma ancora l'ho visto una volta perché gli ho dovuto prestare questi soldi, ma tutto lì, dice a me, Pizzuti va da fare l'attore al cinema perché qui di fronte a me gli attori non vanno, beh lì ho preso le staffe, ho preso questo tavolo, dietro di me c'era Masone, comandante di polizia oggi, e Di Gennaro, che credevano che io fossi uno dei capostipiti di questa associazione sulle 76 persone che hanno arrestato, a me credevo che fossi io il capo, è passato tre anni e mezzo l'ha detto. E chi le fu vicino in quegli anni? Nessuno, e nell'88 quando sono stato assolto per non aver commesso il padre, perché quello dove mi sono arrabbiato è che uno dice assolto per insufficienza di prove, d'accordo, posso riconoscere, non ci sono le prove, sempre assolto, invece no, assolto per non aver commesso il fatto, il magistrato mi dice signor Pizzuti, lei se vuole dire qualcosa alla corte, prima di uscire, e io gli dico senta signor Pizzuti, a lei non gli dico nulla, però gli dico a tutta la magistratura vergognatevi, non è che mi ha detto stia attento come pare, ma semplicemente la capisco, faccia ricorso allo Stato, dopo tre anni e mezzo. Allora io mi ricordo un fatto che Bud Spencer, su un film che, mi chiamava il film, aspetta, il film era a Cinecittà, Salvo Basile, tu l'hai mai sentito nominare? Sì, faceva l'aiuto all'attore. Questo Salvo Basile faceva l'aiuto regista a questo americano, che parlava bene inglese, viene arrestato perché De Niro, il grosso sniffatore di cocaina, le ha mandato a questo Salvo Basile ha cercato i 10 grammi di cocaina, e la polizia l'ha beccato, con questi 10 grammi, l'hanno messo in prigione, il signor Bud Spencer ha pagato 20 milioni di lire all'epoca, per farlo uscire a piedi libri perché, col fatto, faceva l'aiuto regista, attraverso la spiegazione, poi è stata quella. E a me mi lasci marci tre anni e mezzo da dentro, almeno uno, tutti dicevano che non mi conoscevano. normale c'è questo amertume, no? Amarezza. Amarezza. E quando sono uscito, la prima cosa che sono fatto, sono andato a Cinecittà e c'è stato, come si chiama, Mancini, non so, Claudio Mancini, che arriva con il suo Mercedes proprio all'uscita della porta, qui c'è e io gli dico fammi il piacettuno, non scendere dalla macchina perché te chiami l'ambulanza. Lui ha capito e è ripartito. Sono arrivato al Teatro Cinque, chiamo Barboni, Enzo viene, mi abbraccio, che bello, ricarico Enzo e beh, alla fine sono uscito, con i piedi miei ma sono uscito. E arriva Terenzino perché avevano fatto quel film a Memphis, in Arizona, non so che film, uno degli ultimi quest che ha fatto Terenzino, credo. Solo Terenzino, senza Bad Spencer. Lui stava al montaggio, viene e mi dice, Riccardo, Amario, tu non mi conosci, io non te conosco, non ti accostai perché ti va all'ospedale. Lui mi conoscendo, appeso rientra, Enzo mi dice, Calma, calmati, no, 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 Enzo, qui non c'è stato qui, io non devo un cazzo a nessuno, qui qualcuno mi deve, a me mi dovete quasi, ho cercato pure Barboni, qui mi dovete tutti qualche cosa, tutti. Allora mi disse, tu sei l'unico che mi hai mandato i sordi, Enzo, l'unico qui, che mi ha dato una mano, non a me, a mia madre, che mi ha mandato un milione, poi due milioni, delle bazzecole, però almeno, era quello che diceva sempre a mia madre, signor, se hai bisogno di qualche cosa, mi raccomando, gli altri, tutti hanno detto, un commissario di polizia, Lui era lo chef dell'antidroga a Roma, un amico mio, amico, poi usciamo sempre insieme, Masone l'ha interrogato e gli dice, ma io non lo conosco. Poi un altro commissario, non ti faccio il nome, perché era bravo, bravo, però anche lui si è immacchiato di questa cosa, dicendo pure lui, ma non lo conosco io, pizzo Dio. Vedi, quando uno sta in disgrazia, allora che ho fatto? Sono uscito da prigione, sono andato al comune di Roma, via del mare, ho fatto la rinuncia, come si dice, insomma, me ne sono andato dicendo proprio a questo signore Mattimbrano, guarda io, se potessi in questo momento piscerei pure sulla bandiera italiana, talmente sono incattivito, questo ha capito, abbandono di residenza, ecco, sono qui, e da 89 che sto in Francia. Io non ho mai pensato alla ricchezza, ho pensato sempre un po' alla salute, non ho mai pensato alla ricchezza, non ho pensato alla ricchezza, perché non ho pensato alla ricchezza, ma non ho pensato alla ricchezza. Pagliarsi...